Che cazzo, ma vabbè, vaffanculo a due, io cazzo, io cazzo, forcolita, da me il bug, per me è uno. Andiamo a fare quell'altra, poi torniamo qua, dai. Ah no, adesso è ricomparso. Mario, provaci, provaci a non essere ricomparso. Allora va. E intanto via, di nuovo, sicuramente il cuore. E se ne va il tempo, ma mi spieghi perché se ne va il tempo. Cambia moto. Tu prova. Adesso va bene, vabbè. Ma lo fa apposta sto gioco. Madagno. Ecco il finito, il barile. Scopri dalla muta. Sì. Ok, lo vedo io. Io mi sto incazzando, io mi sto incazzando perché veramente ci sto prendendo la vita qua dietro, porco Dio. Eh, mica. Eh, cioè, boh. Vabbè. E tu ridi. Oh, Dio, il barile. Oh, Dio, il barile. E tu non si calca, è un gioco di merda. Eh, vabbè, non c'è più adesso. Beh, sei, Stefano, affanculo. Andiamo al prossimo. Allora, vale. Che c'è? E ma sta di nuovo? E va a dire per il fuoco. Come cazzo l'ho fregato, ragazzi? Con il lanciagranate. Oddio. Che pollo. Me lo vale che c'è il barile che l'ho usato come esca, cazzo. Ho dato la colpa al barile. Oh, Lida, Lida. Ma vi levate? Ma che cazzo gli vanno questo? Il barile. Il barile è sotto. Andiamo al prossimo, Valanzio, cane. Vabbè, ma dove eri io? Perché non faccio tutti gli obiettivi. Perché non mi viene modo di giocare i giochi. Non ho ancora capito che li sto sparando con il lanciagranate. Cioè, capisci? Quelli si sono messi lì e poi mi devono far andare a sbattere e mi fa spaccato un capaccio. Oddio. Guardi finito anche. È merda. È merda. È merda. È merda. Eh, là c'è l'esplosione atomica, guarda. Lì sta con un'esplosione atomica in tutto il tempo. Non so che cazzo esploso. Non lo so. No, prova con questa. Che c'è del fuoco su queste rampe? Va, va. Vai, va. Non so, chissà che deve succedere adesso. Cazzo, sono un colpo. Ma non è che, ma perché ho solo un colpo del mio cecchino che non l'ho mai usato, cazzo? Eh? Ho un colpo solo di cecchino, vabbò. Ah, ah, ah. Ah, almeno posso dire che sono io e non è un problema, ma quando è gioco veramente ti gira in colpo. Ah, qua comunque non scompare. Eh, vabbè, va nell'acqua. Ok, ogni momento è per andare a piedi le allo. Corri, 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 corri. Che vasco, Dio, che vasco. Ma eliminiamo le tutte e quattro, mi raccomando, eh. Dai, Giulio. Oh, aspetta, 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 prima di partire che voglio venerti a vedere. Così se casco ancora vi faccio due risate. Sì, tanto, eh. Che fa l'uomo dal dottor. Questo però lo so fare bene, figli di troia. Questo lo so fare bene, so ammazzare benissimo. Ah, ti ricomparso. Eh, no, che devo farlo di romparire. No. No, no. Oh, raga, questo è il piano, questo è il piano. Oh, là c'è un barile. No, è mai visto. L'acqua un barile e li sparo. Poi la... Sì, quindi tu sull'elicottero rompare. L'acqua un altro. Ah, è comparsi. Qua c'era un altro ancora, raga. Lo faccio scoppiare 784 colpi. Sei là. Sei là. Vada, 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 senza paura. Il barile, compai, il barile, non li devi colpire. Ma scoppiare un cazzo. Ma non li tocco. Non li tocco. Non li tocco. Non li tocco. Che? Che cazzo sta succedendo? Basta. Basta. Cazzo è la gang di merda. Ti ammazzo io. Fatto. No, ma vedi? Io non li... Ma anche lo li spioro. Cioè, quello è il bello. Te esplode tutto. Vabbè, boh. E là tu sono. Cioè, che cazzo. Occhia parile. Ma non lo tocco. Non lo tocco. Non lo tocco. Vabbè, basta. Ma che cazzo. Ma non li tocco, fermo. Cazzo dove? Video, porca puttana. Mica, ti faccio video adesso. Ok, ho tre colpi. Perfetto. Lui ha due modi. Occhio al barile. Ah, un minacchio. Cioè, quello è davanti dopo la rai. Eh, ti sto guardando. Eh, lo sazio. Guarda. Eh, è il bello. Oh. Eh, che cazzo. Eh, chiudi il gioco di me. L'hai chiuso? Vabbè, dai. Ci riproviamo domani. Ah, sì, tanto. Eh, boh. Vabbè. Vedi, è fatto apposta. No, perché se non hai fatto apposta mi spavento. Purtroppo. Veramente. Cioè, no, spavento. Non ho capito. Cosa che ha detto? Io ho sempre fatto apposta. Se non hai fatto apposta, mi viene un attimo. Vabbè, non dobbiamo. No. Non ci vuoi riprovare per l'ultima volta? Voi ho chiuso totalmente. Chiuso totalmente. Eh, vabbè. Ancora l'ora. Ci proveremo domani. Ma per me posso lasciare ancora. Ci riproverai domani o no? Sì, sì, guarda. Come è costato 4? Adesso si sa cosa. Sì, poi ci provo. È passato un anno. Eh, libero. Mi faggiano le palle. Oh, stai. Ti dì. Ti dì. Ti dì. Ero io con l'alciagranate. Ma vaffanculo, ma l'ho capito. Ma vai a cagare. Sparavo nel momento che tu passavi a più a gubarile. Ma vaffanculo, madre. Ma vai a cagare. Oh, c'è i barini, eh. Che soffermi con l'alciagranate. Ma vaffanculo. Oddio. Oh, Maria. Vabbè, mi è piaciuta, dai. Mi è piaciuta, l'assetto. Sto rivolto. Questo finisce nel canale, quello registrato da quando l'hai provata l'altra mappa. Questo l'ho registrato. L'hai registrato sul canale? Ci ho appena fatto. Che merda. Mi stai sfruttando, stai sfruttando la mia personalità. Ok, va bene. Denuncia, denuncia. Oddio. Come fai il gioco? Sono toccati i barini. Sono toccati. Ah, ma pure la mia voce è registrato. Quando lo carichi? Domani. È che non manca domani. Così domani vedi ogni volta che ti sparavo con il lancio granato. Secondo l'altro ho detto, aspetto un attimo che voglio guardarti perché ero andato a piare le munizioni. Ho fitto i colpi dell'ancio granato. Io aspettavo proprio che tu passassi a fianco al barile così da dargli la coda. E' un po' cuore. E' un po' cuore. E' un po' cuore. Oh, fai in cuore. Ecco perché stavi in silenzio quando è. Tu sei una merda. A me non parlavi più. A radio ragazze è possibile. Oh, signor Benedetto. Mi è piaciuta. Mi metto like sicuro di essere il primo a mettere like su sto video.